20 anni si festeggiano, io vedo tante facce note anche della controparte di chi di noi ha scritto bene o male e bene o male è bello vedere che dopo 20 anni di un prodotto in cui bene o male quasi, quasi tutti gli anni ci siamo ritrovati qua, stiamo ancora qui dopo 20 anni sempre più numerosi, cosa che è abbastanza singolare. Non amo come voi sapete chi mi conosce le celebrazioni né tantomeno le autocelebrazioni però voglio solo dare un dato su questi 20 anni di cui sono particolarmente fiero, è vero che sono 20 anni che lavoriamo su questa cosa ma ieri così per caso leggevo che una serie americana che io ho adorato che si chiama Light to Me e come Light to Me tante altre in 3 anni ha fatto 48 episodi, noi in 20 anni ne abbiamo fatti 34, questo significa che abbiamo veramente avuto modo grazie anche alla RAI, grazie a Carlo che ha creduto in questo prodotto, grazie anche a noi non abbiamo mai passato la guardia, abbiamo avuto modo di lavorare a questi film come fossero veramente 34 film e non una serie televisiva intesa tante volte anzi spesso e volentieri sbagliando come una cosa che si riesce a fare più velocemente perché tanto la cura del dettaglio non vale.